Questa opera, realizzata dal 1787 al 1793, si trova all'Uve, ma ne esistono molte copie in tutto il mondo data la sua importanza. Canova parte dal racconto dell'asino di oro di Aurelio, Psiche, una bellissima fanciulla che non riesce a trovare marito, diventa l'attrazione di tutti i popoli vicini che la chiamano Venere. La divinità, saputa l'esistenza di Psiche, gelosa per il nome che gli è stato rubato, invia suo figlio Cupido perché la faccia innamorare dell'uomo più brutto e avaro della terra e sia coperta dalla vergogna di questa relazione, Ma il Dio sbaglia mira e la freccia d'amore colpisce invece il proprio piede degli si innamora perdutamente della fanciulla. Cupido la trasporta al suo palazzo dove, imponendo che gli incontri avvengano al buio per non incorrere nelle ire della madre Venere, la fa sua, Così per molte notti lui e Psiche bruciano la loro passione in un amore che mai nessun mortale aveva conosciuto, Psiche, però, su istigazione delle sorelle invitata.